Siccome devo fare una partita di calcio, no? Ci manca la palla. Mi manda Maria. Ma ci va a fare una grandissima resega? Ma che linguaggio? Oh, che parole? Oh, direbbe il Cardinal Tonini. Oh, questi giovani d'oggi, ma che mi fanno? Oh, mi fanno pena. Che linguaggio limitato. Naturalmente... Ho fatto abbastanza pesce, da punta sarà giusto. Te li porto a portapattente. Noi abbiamo messo un annuncio di ricerca di... Guardi, a me è un mistero. E lei ha risposto all'annuncio. Ma come? Guido, caro Guido, i miei percorsi mnemonici, vorrei sapere come faccio io a tirar fuori dalla testa queste cose improvvisamente? Ma lei, ascolti, lei imparerà un psicologo. O psichiatra sarà meglio. Non mi deve disturbare, ha capito? Io non l'ho mai masturbata, guardi. Non l'ho mai masturbata, sia ben chiaro. Arrivederci. Per carità di Dio, se io la masturbo. Ma ci mancherebbe altro. Palla? No, ho sbagliato il numero. Non è palla? No. Pallina? Palla ovale? Palle? Rosse e gialle. La griteria del conto. No, 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 no. Questa stava ascoltandomi e sapendo che stavo pregolando le palle, praticamente ha negato di chiamarsi palla. Ma questo è normale perché, insomma, sai, non tutte le palle... Pronto, senta, le palle? Come? Le palle, secondo lei, stanno sopra o sotto il pene? Lei dove ce l'ha? Io sopra. Sì, quando faccio la verticale. L'è garbata questa, signora? Sì, sì. Anche a me. Arrivederla. La sento un po' giù, ma si tiri su per pagare un po' di pene anche a lei. Pronto? Scusi, pensavo di no, invece sì, vero? Come sai, per chi è che parla? Valerio c'è? Sì. Ecco, appunto, io sono un amico, volevo dire, pensavo di no, e invece sì, accidenti. Mi ha detto quella lì che, mamma mia! Ma di dove chiama? Pensavo che lui ormai, e invece, guardi, lei che è la moglie? Sì, di dove chiama? Complimenti, complimenti, perché io pensavo che lui ormai, sa, fosse arrivato un po' alla frutta, e invece mi ha detto quella lì, uh, le mille, le mille meraviglie. Ma di dove siamo? È qui da casa mia. Di dove è lei? No, io sono di Guamo. Ah, sì. Ciao a me lo faccio subito. Eh, ma quella lì mi ha detto, sono veramente contento per lui, perché io pensavo che ormai, sa. Sì, sì, e glielo passo subito. Non avesse più chance. Invece... Valerio! Vieni qui. Valerio! Sì, eccolo, eh. Eccolo? Sì, sì. Sta venendo? Sta venendo. Ancora? Ah, ma accidenti, accidenti, complimenti, oh, una cosa, guarda, eh, ma davvero, guardi. Ma, eh, ma quanto ci mette a venire? Pronto? Ah, Valerio! Sì? Complimenti. Complimenti, complimenti. Chi è che parla? Eh, ora, ora, non fa pinta di nulla perché c'è tua moglie, tanto le ho belle degli oltre, l'ho già detto tutto a tua moglie, eh, l'ho già detto tutto, c'è il problema, no, no, senti, non si può tacere una cosa del genere, io pensavo che te ormai avessi rimesso le armi, eh, dentro l'armadietto, e invece no! Bravo, complimenti, me l'ha detto, sai, quella là. Ma chi è che parla? Quella là, me l'ha detto, sai, madonna, mi ha detto, una furia, Valerio, bravo, complimenti. Io pensavo ormai, sai, avessi un po' rinunciato, complimenti, bravo, Valerio, ma che prendi quella roba lì? Quella roba che fa l'effetto, eh? Come? Che prendi quella roba lì? Ma quale roba? Quelle pilloline? Eh, ma, ma chi è che parla? Oh, Valerio. Ma, ma sei matto? Sì. Ah, ecco, allora io con Martion ci parlo. No, cosa hai capito? Eh. Mario, sono Mario, hai detto Mario, me l'hai detto? Sono Mario, sì, sono Mario. Come stai, Valerio? Male. Perché? Che hai fatto? Sono moribondo. Ah, beh, allora, sono gli ultimi schizzi prima di morire, eh? Uh-huh. Eh, come è moribondo? Come sarebbe moribondo, Valerio? Via, sono andato a mangiare, eh. Ma come, moribondo va a mangiare? Eh. E certo, a chi conta andato a morire? Mario, eh, Valerio, Valerio, è morto. È morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Guarda, oh, ragazzi, mi è morto sul pezzo, mi è morto sul pezzo. Io gli avevo detto, attento, magari, capito, tu stai un pochino più di là che di qua. Insomma, certe volte dice, non ha anche morire in bellezza. Eh, vabbè, mi dispiace. Abbiamo perso Valerio, ma abbiamo perso per sempre. Valerio, non c'è più. Ah, ma abbiamo fatto un altro numero. Proviamo qua. Di dove ero io? Di guano. Meglio dire guano, guano, che è un'altra cosa. È cacca, il guano è cacca. Alla prossima. Un'altra cosa. Un'altra cosa.